Villa del sole, molto più di un ristorante, molto di più di un solarium, molto più di un disco club. A Villa del sole vivi l'estate in un'oasi vera e propria, trovi relax e divertimento, ti abbronzi, ti rilassi e poi magari dopo un intrigante aperitivo puoi ballare grazie ai mixaggi dei migliori DJ set. Il tutto in uno speciale scenario naturale dove troverai benessere, emozioni e divertimento. Villa del sole è pronta a farvi trascorrere un estate de fuego. Tante novità vi aspettano partendo dalla nuova pista latina e al nuovo format della pista disco sabrosita dove avremo come resident ogni venerdì lo staff che sta facendo ballare tutta la riviera a tempo di reggaeton, dembow, hip hop con i loro DJ e la loro animazione mucho caliente, i Pecadora. E per non farvi mancare nulla, la cucina rinnovata e di qualità da quest'estate proporrà anche la pizza. Presso Villa del sole puoi anche organizzare eventi come compleanni, anniversari, matrimoni e tanto altro ancora. Villa del sole è a Bovara di Trevi sulla ridente collina olivata che renderà magici i momenti che ci trascorrerai. Ben trovati a tutti i gentili telespettatori di Umbria TV e web spettatori di Sette Calcio TV con il tredicesimo appuntamento stagionale con Sette Calcio Mercato. Parto subito con la presentazione dei nostri ospiti, altro parterre de Rois per la tredicesima giornata, Stefano. Abbiamo fatto tredici. Stefano Baiani, il primis, direttore responsabile di SetteCalcio.it. Grazie Simone e grazie agli ospiti che sono intervenuti anche quest'oggi. Vedremo di snocciolare altre news di Calcio Mercato. Vedo che è un papiro oggi. Sì, arriviamo da una settimana, ormai tante cose già si sanno, però qualcuna riassumeremo e qualcuna daremo qualche chicchetta in anteprima. Ho visto nelle immagini di Daniele Minni di Spoleto Sport anche la presentazione dello spoleto calcio. Ci darei contezza anche della principessa che hai avuto modo di conoscere tutto il suo. Sì, non ci ho potuto parlare perché io non parlo inglese, per cui lei parla solo inglese. Ti sei astenuto quindi. Per cui ci siamo affidati alla traduzione del suo braccio. Qualche ammiccamento c'è stato, no? No, no, no. Troppo in alto per me, la principessa. Giustamente. Benvenuto a Michele Gelosia, tecnico della Visma Alba. Buonasera, Michele. Grazie e buonasera. Grazie per l'invito soprattutto. Si parte con una nuova avventura dopo lo scorso campionato in quel di Torgiano, ti sposti di poco a livello geografico. Insomma, ambizioni importanti con una compagine allestita, diciamo, con giocatori di buon livello per questa categoria. Qual è l'ambizione concreta, reale per questa stagione agonistica? Diciamo che intanto la Nova Alba per me è una società importante perché ho giocato lì, ho fatto tutta la trafila dai Pulcini fino all'esordio in prima squadra, 15 anni fa. Quindi è un ritorno e sono contento prima di tutto di questo. L'anno scorso la squadra ha fatto un buon campionato, si è salvata con un paio di giornate d'anticipo. Diciamo che la società ha ambizioni di fare un campionato migliore, quindi provare a stare tra le prime posizioni per provare a fare i play-off. Quindi, insomma, abbiamo lavorato. La società ha detto che ti ha portato lì per vincere il campionato. Ok, tanti presidenti alzano sempre l'asticella. Certo, se vincere sempre uno non è mai fatto. Io devo rimanere sempre basso perché comunque... Comunque, ecco, l'obiettivo è quello di fare bene e sicuramente di migliorare quello che è stato fatto l'anno scorso. Credo e spero che i presupposti ci sono. E proseguiamo, ora qui abbiamo un double del nuovo Petrignano, mi piace definirlo edizione 2.0, partendo dal presidente Gianni Eugeni, numero uno, nuovo patrono del Petrignano. Buonasera, grazie dell'invito. E poi, non ha bisogno di presentazioni Riccardo. Riccardo Caporali, giocatore di grande caratura nel nostro panorama calcistico regionale. Adesso, senza far falsa retorica, dico che forse è uno degli esterni d'attacco più forti che ci sono stati in Umbria negli ultimi anni. E ora inizia l'avventura, forse è la prima veramente da tecnico. C'è stata quella con le pepe da allenatore giocatore, una grande bella esperienza. Poi è proseguita un'esperienza nelle Marche, adesso ho deciso di dedicarmi solo alla figura dell'allenatore. Anche se con dispiacere devo lasciare il ruolo da calciatore, ma lo faccio tra virgolette con piacere perché posso ripartire subito con un'esperienza importante. Adesso non è che durante l'anno bisogna rimettergli la maglia. Io ho detto che dopo febbraio... Se le cose vanno male. No, no, anche se le cose vanno bene. Speriamo che varano bene, insomma. Dopo se vuole fare anche 7-8 gol, 10, va bene. Magari dalla panchina, inzucchiata di testa. Non è male, dai. A proposito, al di là, adesso al di là delle battute, Petrignano che è a raduce da due annate difficili, no? Abbastanza. Abbastanza. Molto difficili, partite con presupposti diversi, ma poi finite una in modo nefasto con la retrocessione dell'eccellenza. Lo scorso anno Deo Grazias si è arrivati alla salvezza nella coda finale stagionale. Tra l'altro lì dimostrazione di grande compattezza di unità di intenti nel finale con questa salvezza e ora si riparte di slancio con Riccardo in panchina e con un gruppo anche a livello societario rinnovatissimo. Sì, praticamente noi veniamo da queste due annate, soprattutto la retrocessione dell'eccellenza è stata per noi un'ammazzata sul collo perché i presupposti e da dove eravamo partiti erano ben diversi da quello che poi si è venuto a concretizzare. E niente, l'anno della promozione onestamente non ci aspettavamo nemmeno di andare a fare i play-out, è andata bene, il gruppo ha retto la botta e ci siamo salvati. Questo anno speriamo insomma con Riccardo è stato fatto un accordo che ci vogliamo salvare il prima possibile. Poi quello che viene dopo si vedrà, ci divertiremo dopo speriamo il prima possibile. Stanno a profilo un po' più basso. Sì sì, stanno a profilo basso assolutamente. Visto le precedenti. Assolutamente profilo basso. Riccardo, è un mercato che ha portato in dotazione giocatori anche da rivitalizzare, parlo di Andrea Ongamanga, di Vlatko Sbrinoski che poi conosciamo benissimo, lo stesso Masei che tu conosci o che ha avuto a Muccia quest'anno, tante altre conferme. Qualche altra richiesta ci sarà alla società oppure siamo a posto di uscire? Sicuramente sì, la lista è lunga. Ancora almeno un paio di giocatori occorrono per completare la rosa per non andare in sofferenza durante l'anno, per esperienza serve una rosa competitiva. Come dice il Presidente, l'obiettivo è la salvezza ma l'obiettivo lo vedremo strada facendo, anche perché la prima cosa che ho detto al Presidente, voi dovete sapere chi prendete caratterialmente come allenatore, perché io comunque posso essere un allenatore esordiente in categoria, però nel mondo del calcio sono 20 anni che sono nel calcio e quindi so qual è la figura che dovrò andare a ricoprire con certe caratteristiche. Come dicevi te abbiamo fatto delle scommesse, dei rischi calcolati perché abbiamo preso giocatori integri, però da rigenerare, il budget non era altissimo quindi abbiamo fatto una scelta ponderata sia nelle riconferme che negli acquisti, tutti i giocatori avvallati da me e dalla società e come tu hai fatto due esempi come Andrea Angamanca e Vlad Kosbrinoski sono due giocatori che io confido nel rigenerare mentalmente perché le qualità non si discutono e per noi possono essere una sorpresa e quindi ci abbiamo da lavorare, dobbiamo lavorare tanto tanto tanto, partiremo molto presto rispetto agli altri credo e quindi poi faremo parlare il campo. Una domanda cattiva gliela facciamo ma giusto per solleticare un po' l'appetito, no? Petrignano negli ultimi anni è stata una piazza mangio allenatore. Petrignano negli ultimi tre anni 11 allenatori. Te lo domandi perché? Te lo sei domandato? Io me lo so domandato e l'ho parlato anche col Presidente, una mia idea glielo ho data, l'ho espressa, però poi alla fine ripeto, per quanto riguarda me io non ho né paura né sento grandi pressioni perché io ho chiesto solo la possibilità di lavorare sul campo, poi questo non devo allenare ma vorrei allenare in futuro, studio per fare questo ma non mi faccio impressionare da una piazza così, è stimolante, ma anche da calciatore ho fatto spesso scelte in popolari, sono andato su piazzi difficili, in momenti difficili, quindi forse rispecchia anche la mia necessità caratteriale una piazza come Petrignano. Di tirare fuori il meglio soprattutto in queste situazioni. Sì, sicuramente questa è ovviamente come una società si informa sull'allenatore e sui giocatori, mi sono informato sulla società, sono informato su quello che c'è stato, su quello che c'era stato, io sono abbastanza tranquillo. Questo naturalmente non lo si fa per indagisi a qual tipo ma per cercare di non ripetere i errori del passato. Ovviamente per me in questo ruolo, il ruolo allenatore è un ruolo molto particolare perché puoi bruciarti velocemente o magari puoi chiuderti delle porte velocemente, detto questo a me, ripeto, la piazza, io ho parlato con la società, diciamo è stato amore a prima vista per le idee che vogliamo riportare, il Presidente lui mi si è presentato dicendo per noi è Pedrignano 2.0, quindi noi dobbiamo creare, dobbiamo ricreare soprattutto un'immagine, ma l'immagine deve essere una squadra da battaglia e caratterialmente deve avere il sangue e l'occhi. Questo perché l'allenatore è così, se io non riuscisse a trasmettere questo sarebbe il primo fallimento. E Dulcis in fundo andiamo a presentare anche il Neo DS dell'Angelana, rientra un po' nel calcio Umbro, ma insomma direttore sportivo e dirigente di vecchia data, non per anagrafe, ma sicuramente per militanza, Loris Gervasi, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, anche qui possiamo parlare di Angelana quasi 2.0, c'è molto da rifare, da ricostruire, sono arrivate anche le prime, i primi colpi di mercato, di un ragazzo, faccio i complimenti che è Gianluca Stucchi, che conosco bene, ragazzo del 98 che onestamente forse ha avuto poco gli ultimi anni rispetto a quelle che sono le sue qualità tecniche, però è un ragazzo che ha già avuto esperienze in quarta serie, scorso anno a casa del diavolo è andato bene, ha qualità tecniche importanti anche per questa categoria. Sì, sicuramente un ragazzo di valore che ha grossissime potenzialità e speriamo che in questa stagione le metta in atto, assolutamente. Quanti tasselli mancano per completare il mercato? Mi informo personalmente perché se mi... No, no, ha detto che... È diretto interessante lo dice oggi. Se mi dice basta... Capito? Uno lo dice oggi. Ah sì? Te lo dico subito. Eh, dillo subito. Te lo dico. Michele Ricciolini. Ah. Bene, è ufficiale. Sì, sì. Già da ieri. Bene. Roba da rilento, gli hai visto, no? Con le notizie. Dice. L'ha detto stampa, gli ho detto che devo andare lento. Anche le foto arrivano... Capito? Da qualcuno arrivano prima che qualcuno... No, vabbè, quello no, guarda, no, quello no. Non succede perché... Vabbè. No. Te lo dico... Con coso è successo? È successo ieri perché... Piccole poli. Con Orlandi. Mi dicono che... Perché io sto sempre al telefono, quindi non ci faccio caso. Whatsapp ieri c'ha avuto problemi. Sì, con le foto, è vero. Ecco perché è successo, perché io mi sono informato a quello che mi hai chiesto. Quindi è per questo che la foto di Morlandi è arrivata in ritardo. Ecco. Vabbè, via. E la passiamo, eh? No, 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 se no ti direi... No. Non c'ha senso, vuoi dire, no? Si scherza, naturalmente. Comunque, ecco, piano piano ancora mancano dei tasselli, ma li andremo sicuramente a prendere nel giro di una settimana. Stiamo facendo le cose con calma e dobbiamo... Abbiamo dei giovani molto, molto interessanti. Quanti non me lo dice però, Erick? Di che? Di acquisti? Se il troppo interessato. Di acquisti ancora tre, te lo dico. Eh? Ancora tre. Ancora tre. Giustamente. Poi se c'è la ciliegina, questo deciderà il presidente, non lo so. Se me la valla. Però lo vedremo. Sarà difficile. Però ancora ci abbiamo da lavorare, dai. Ci abbiamo da lavorare. Entriamo in conflitti tedeschi. Quella di Filippo Passeri in attacco e quella di Elia Mazzoni in porta. Comunque i due giocatori sono una garanzia per questa categoria. Io penso proprio di sì. Io, infatti, nelle chiacchierate, prima di arrivare a Santa Maria, erano due giocatori che ci tenevano che ristassero. Però ti dico molto sinceramente, all'appuntamento con i due ragazzi c'è stata, diciamo, una chiacchierata di dieci minuti, giusto per spiegargli quello che si voleva fare e la nostra organizzazione, che come hai detto te, diciamo, tra virgolette, un anno zero e quindi gli ho spiegato tutto ma ci siamo messi d'accordo in pochissimi minuti. Anche loro hanno sposato questa nuova situazione con molta tranquillità e con molta voglia di fare. Stefano, deliziaci con qualche... A proposito di città. Tutti hanno zero. Vabbè. Molte... Tra virgolette, a me non è che mi piace molto questa cosa. Anno zero anche a Spoleto, come sappiamo, visto che riparte da questa... L'ennesimo anno zero. L'ennesimo anno zero. Vabbè. Riparte da questa nuova presidente araba. Nora Bint Saad Al Saud. Chi avrà in Massimiliano Pincione, che era l'ex presidente del Grosseto, come braccio destro, mentre il direttore generale sarà Paolo Iapaolo. L'altro giorno c'è stata la conferenza stampa di presentazione, diciamo, hanno spiegato un po' quello che era successo a Grosseto. Senza nascondersi poi, con delle ambizioni... Ambizioni molto importanti. Ci si parla di vittorie del campionato. Sì, sì, puntano subito a viggere il campionato. Gli è stato anche... Anzi, gli ho chiesto io direttamente se avevano già sentito o sondato qualche imprenditore spoletino per... No, visto che negli anni precedenti chi c'era... C'era chi si lamentava di questo, no? Chiamava sempre a raccolta gli spoletini. Invece loro hanno categoricamente escluso questa cosa. La proprietà è la loro al 100% e loro la gestiranno. Eventualmente cercheranno solo sponsorizzazioni, contributi di questo tipo. Quindi diciamo che la società è totalmente a carico della proprietà, quindi della principessa di fatto. Principessa è anche di questo pincione, perché la proprietà è arabo-statunitense. Scelta però indigena invece sul tecnico. Sì, sul tecnico e anche sullo staff, diciamo, perché comunque c'è anche Alberto Delfrade che farà il direttore sportivo e sta già costruendo, anzi probabilmente giovedì sarà ospite qui da noi, venerdì. L'allenatore Ricci, Fausto Ricci, ex Ducato, che si è lasciato andare un po', ha una dichiarazione forte perché ha detto che si è chiusa una porta e si è aperto un portone. Non so, alla Ducato come l'avranno presa, però speriamo per lui che questa di Spoleto diciamo sia una buona opportunità, un'avventura che abbia una certa durata. Io penso che Fausto Ricci abbia dato molto alla Ducato nell'anno della promozione, scusa il gioco di parole, dalla promozione all'eccellenza. Sì, assolutamente. E quindi vanno fatti grandissimi complimenti per il double anche con la vittoria della Coppa. Ma è chiaro che l'anno pregresso, non è che la Ducato non sia dispiaciuta la chiusura della porta perché poi con l'avvento di Raggi, insomma, un cambio di marcia notevole. Non è che sarà difeso solo dal cambio allenatore. No, non è riferito a Fausto naturalmente. Probabilmente è avvenuto insomma una metamorfosi che ha permesso, insomma, un cambio di ritmo in maniera impressionante perché la Ducato in effetti dopo che è arrivato Raggi ha messo la quinta, anche la sesta, insomma, ha fatto risultati in serie importanti. Esatto, anche con una squadra di ottimi valori. Vai Stefano, se abbiamo altro. Sì, abbiamo altro. Oggi il Ponte Valleceppi ha ufficializzato il centrocampista Andrea Bernardini, classe 90, ex Sansevolcro e Cannara. Nell'acquisto. Il Lama qualche giorno fa ha ufficializzato Daniele Toma, classe 2001 dal Foligno, mentre dal Foligno dovrebbe arrivare anche qualcuno per la Trasimeno. Non so se è già ufficiale oppure vicino all'ufficio. Diciamo che il nero su bianco non c'è ma è come se ci fosse. Anche lui centrocampista, classe 2001, un buon incursionista diciamo perché comunque mi risulta che abbia segnato diversi gol l'anno scorso nel torneo Juniores. Due notizie di Serie D, il Bastia ha preso il suo primo attaccante, classe 88, Antonio Giglio arriva dal bra calcio e nel suo curriculum ha esperienze importanti, il Lega Pro è anche in Serie D con Manfredoni, no, il Lega Pro con Manfredoni e Paganese e poi anche diverse stagioni in Serie D. Mentre il Foligno si è buttato sul difensore brasiliano Tulio Bacatini Marotti, classe 95, l'anno scorso era Levico Terme in Serie D. Bacatini quindi ufficiale, manca un altro centrale difensivo al Foligno Calcio che cercherà di reperirlo in questa seconda fase. Di fatto è la prima perché poi il mercato si è aperto ufficialmente dal primo di luglio per cui... Sì, sì, beh, ancora di tempo ce n'è per... Michele, invece, proprio a proposito del torneo di eccellenza, io, se stiamo ripetendo, ma sembra essere una realtà, c'era l'incognita Spoleto ma ora, almeno stante le dichiarazioni e quelle che sono le velleità, si parla di contatti con Adamo, con Liborio Zuppardo, con giocatori insomma, di spessore, no? 12 gol in Serie D anche l'ultimo anno per Liborio, anche se avverrà in età di 34 anni. La stessa, sì, su Basio con l'innesto di Roberto Damaschi e Alvaro Arcipreti che Loris credo conosca benissimo. Ma ancora questa non è una cosa scontata. Non è scontata. No, no. C'è sempre il Giulianova di mezzo. Con Arcipreti. Con Arcipreti e anche Damaschi. Per cui, diciamo, ancora devono prendere la decisione finale. Però anche lì, se fosse, ci sarebbero energie economiche nuove. Beh, sicuramente, però, insomma, sono un po' combattuti, soprattutto da quello che mi risulta un po' Alvaro, Arcipreti, un po' combattuto dal discorso Giulianova. Insomma, Serie D, non si parla di grandissima ambizione, però, insomma, una piazza che se vai benino ci stanno mille persone, mi risulta, a vedere la partita. Per cui, insomma, è tutta un'altra cosa. Quindi, tuttavia, al di là di queste situazioni che sembrano comunque andare a definirsi, c'è chi dava, naturalmente può essere definito un po' il ritardo, come Rosa e Gualdo. Poi qualcuno, sì, parlava fino a qualche giorno fa di Ellera e Ponte Valleceppi, ma anche queste due compagini mi sembra che stanno battendo i loro colpettini. Tutto il resto, insomma, al di là di Sansepolcro che mi sento di mettere un po' un gradino sopra le altre, poi un pochino tutte cercano di fare, non dico la voce grossa, ma comunque di innestare giocatori importanti. Un campionato grandi firme in questa stagione, a quanto pare. Io credo che tendenzialmente nelle ultime stagioni si è alzato il livello dell'eccellenza, specialmente, visto che sono sparite parecchie squadre professionistiche, ci sono molto giocatori che fino a due o tre anni fa erano tra professionistiche e adesso giocano in eccellenza. Questi inevitabilmente alzano il livello. Per quanto riguarda le squadre più attrezzate, è normale dire che il Lama parte in pole position, perché comunque c'ha una base importante, se non sbaglio, ha confermato buona parte della Rosa l'anno scorso, ha aggiunto insomma, no? Magari anche sul portiere è andato via Badi, è arrivato Battistelli, quindi lo Spoleto sicuramente ha tutto per fare bene, come sempre, perché poi anche l'anno scorso per metà stagione ha fatto bene. La scelta di Ricci secondo me è azzeccata, perché comunque è un personaggio che conosce la categoria, conosce il posto, come è sicuramente una garanzia del frate a livello dirigenziale. Il dubbio è a questo punto dire che costruisco una squadra per vincere il campionato a luglio. Bisogna andare a pescare, credo, tu fai il direttore sportivo, magari Loris lo sa meglio, fuori regione. C'è un po' di appartamenti? Eh no, diciamo che il costo aumenta, aumenta anche il discorso dei costi, perché devi andare a prendere fuori. No, a parte gli scherzi, in Umbria mi sembra che i giocatori sono diminuiti negli ultimi anni, perché mi ricordo benissimo che noi un anno di Serie D a Foligno siamo partiti il 17 di luglio a fare la squadra. 17 luglio, primo appuntamento col mister Nofri. E la sera a seguire tre giocatori, però c'erano ancora giocatori a disposizione. In questo momento siamo il 4 di luglio, ma i giocatori a disposizione in Umbria sono pochissimi, secondo me. E quindi, come dire voi, c'è quell'idea, penso che gli orientamenti delle telefonate, dei nomi dei giocatori vadano fuori dall'Umbria. Gioco forza è così, perché poi è un mercato, proprio quello che l'ho vissuto in prima persona, quest'anno, rifacendo di fatto una rosa da zero, molto veloce, nel senso che inizia già dai primi di giugno, ma se non prima i movimenti, se non prima. Prima, prima ancora, quest'anno molto prima. L'ultima settimana di maggio, sì, giusto. Anche perché, se non vado errato, il campionato di eccellenza è finito prima della fine di aprile, mi sembra. 25. Ci sono state società parlando... Le ultime due partite sono state quasi vicinissime, col 25 aprile. La settimana dopo la Pasqua, diciamo. Pasqua, 25 aprile, è finito il campionato, e quindi quest'anno sono ripartite prima le società. Anche società, vedi, sempre parlando di neopromosse, la Nestor che vince praticamente il campionato prima di iniziarlo, ha avuto modo di programmare... Dopo il carnevale, penso, già pensavano alla stagione di quest'anno. No, penso, già avevano messo in piedi. Perché poi è un merito, eh. No, no, sono stati bravissimi, anzi faccio i complimenti, sono tutti amici lì, hanno fatto un grandissimo lavoro e quindi però hanno avuto molto più tempo per poter programmare, no? Ah, già, assolutamente. E comunque sarà sicuramente un torneo molto livellato. Riccardo, tu che, insomma, l'eccellenza l'hai affrontata, non solo l'eccellenza, ma a grandi livelli, ne convieni con me che Sansepolcro probabilmente la squadra da battere, poi con forse Lama e Tiferno che ancora deve, anzi, a proposito di Tiferno, credo sia doveroso fare le nostre più sentite condoglianze, vi associerete tutti al patron Roberto Bianchi che abbiamo avuto modo di conoscere. Una famiglia intera. Esatto, non è retorica ma persona di grande spessore sia da un punto di vista umano che culturale, nonché, diciamo, il papà, no? Di questa famiglia che è quella della Tiferno Calcio. Famiglia che in questo momento ha perso la propria madre, mi permetto di dire, e quindi posso capire il dolore di tutti i figli, i figli veri e quelli della società e non solo, piuttosto che del patronne e tutta la famiglia, per cui un grande braccio a Roberto con l'ospicio che sua moglie possa essere sempre al suo fianco, non è detto senza falsa retorica, anche da un punto di vista di vicinanza di animo per questa avventura e per la vita che verrà. Tra l'altro ieri nel corso del funerale in chiesa, ha letto un messaggio al capitano Simone Eramo, particolarmente toccante, insomma, che ha commosso un po' tutti e questo dimostra anche la vicinanza proprio della squadra, dei giocatori anche alla povera Margherita, diciamo. Purtroppo nella vita esiste anche questo. Comunque, tornando a bomba, dicevamo Riccardo, parlando di Tiferno, eccetera, comunque io il Sansepolcro lo vedo un pelino sopra le altre, non so qual è il direttore. Sicuramente sì, io concordo con te che il Sansepolcro in questo momento secondo me è la favorita. Il Lama, grande ossatura, ha aggiunto giocatori importanti, però ha perso anche due fuori vuota pesanti, quindi bisogna rivedere lì, so che la Juniors comunque è limitata, quindi hanno preso Tom a un buon giocatore, però sicuramente da valutare in corso. Poi non vedo, vedo grande equilibrio, non vedo una squadra Materas, perché magari non avete citato, anche la Narnese, squadra di categoria, davanti, l'Orvietana sta facendo mercato nel Lazio, tutti i giocatori che vengono da Eccellenza Serie D a vincere. Io personalmente l'unica incognita per me è lo Spoleto, perché io lì sono stato e difficilmente a me mi riempiono gli occhi con questa cosa, perché i proclami per chiarità, basi e tutto quanto. Poi servono i fatti, eh? Se bisogna stringere questo giochino a bocce ferme, si possono dire tante cose, conoscendo la piazza, conoscendo un po' anche il seguito, io spero per il bene che voglio a chi sta lì, tanti amici, che sia effettivamente una cosa concreta, non sia una cosa come avvenute spesso a Spoleto, però mi riservo di rivederli fra un paio di mesi. Per il resto vedo grande equilibrio, tutte le squadre, anche la Nessor, anche se ha vinto il campionato, ha rinnovato tanto, con giocatori importanti, perché la categoria le richiede. Giocatori, 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 tutti, non vedo, ripeto, non vedo squadre che vittime sacrificali all'inizio. Direttore? Sì, anch'io sulla situazione del Sansevolgo sono d'accordo, secondo me stanno allestendo una buonissima squadra per puntare subito al vertice. Diciamo anche la Tiferno che, da come dicono, adesso c'è stata purtroppo questa situazione in stand-by in questo periodo, ma non è finita qui. Penso che arriveranno altri 3-4 giocatori importanti e quindi sicuramente si metterà al pari, se non al pari, ma appena appena sotto del Sansepolcro. Poi le altre, io nominerei anche la Trasimeno perché assolutamente ha fatto grossissimi acquisti con giocatori importanti della categoria. No, vabbè, ma lo vediamo, mica ha fatto, il mister lo conosciamo, quindi è una garanzia e penso che sono lì per fare un campionato, diciamo, sulle prime posizioni e poi le altre sono d'accordo. È un'ispirazione di tante società quest'anno. Eh, ma quando è così io credo che il primo obiettivo deve essere... Non proprio tante, dai, non proprio tante, dopo quest'anno l'eccellenza si è rinforzata molto, secondo me, come livello, eh, come livello, siamo a un livello superiore a confronto di 3-4 anni fa, secondo me, eh, che vedevo un po' dall'esterno, ma io la vedo così. No, e... E quindi c'è da lottare, c'è da... c'è da stare sopra, c'è da stare sul pezzo, assolutamente. Ma, per parecchie già mantenere la categoria... Eh, infatti, ma infatti, guarda, io parlo per noi personalmente, innanzitutto bisogna salvarsi il prima possibile, te lo dico, stanno... è dura perché ci saranno parecchie società tutte lì, appunto, sarà un campionato molto equilibrato, secondo me. Cioè io ci tengo a dirlo, non è che... io non voglio nascondermi perché è chiaro che il mister Farsi non è che veniva a fare le comparse, no, questo credo sia evidente, bisogna essere anche onesti, no, nel dirlo. Però, dico anche che ha riempito molto il mercato della Trasimeno perché si parte da meno zero giocatori. Cioè una decisione è stata quella di rinnovare completamente l'Organi. No, no, ma questo no, io... Se l'ho detto perché avete preso giocatori importanti, mica... No, no, sì, sì, chiaro. Però se io vedo... Certo, la rossa bisogna farla. Poi c'è la... c'è bisogna conoscerci, c'è bisogno di... una serie di cose. Parlando, per esempio, no, di una società come la Ducato, che secondo me ha grandi potenzialità, anche economiche, su una squadra che io reputo forte, se secondo me fa un altro aggiustamento nel pacchetto arretrato, mi riesce ad innestare Alessio Cardarelli insieme a Tomassoni e Cola, mi prendi Giuliacci in mediana, cioè, porca miseria. Queste sono... Poi è vero, ne hanno presi tre, ok, ma ce n'erano altri dietro, capisci? No, ma lì c'è una squadra... Quindi significa che a mio avviso... Sella pronta, no? Tutte le squadre, ma tutte, dal Sansepolcro a scendere, il primo obiettivo che devono darsi è il mantenimento della categoria, perché il rischio di una vittima illustre è enorme quest'anno. Sì, sì. Mia personale opinione. A proposito del Sansepolcro, mi sono dimenticato di dire del centrocampista Lorenzo Benedetti, insomma, anche questo è stato l'innesto di qualche giorno fa, però... Beh, è un innesto importante, ha giocato a Bastia, vuoi dire... È uno che alza parecchio la sticella. Con Zanchi si conoscono molto bene, quindi, giocatori che conosciamo... Invece del Ponte Valleceppi mi ero dimenticato il colpo in difesa di questo ragazzo giovane, classe 98, Adam Zimoc, che l'anno scorso ha giocato in prima categoria col Monte Acuto, ma di cui mi hanno parlato molto bene, soprattutto i dirigenti del Monte Acuto, e gli è dispiaciuto molto, anzi, per l'Umberti da M.A. Ci puntavano molto anche quest'anno. Sono belli queste scommesse, no? Sì, sì, ci puntavano molto anche quest'anno, però, insomma, alla fine sono contenti che sia andato a fare una prova importante in una società di eccellenza. Senti Stefano, andiamo in promozione prima categoria, così andiamo a parlare più nel contingente delle situazioni che interessano per i nostri spieghi. Promozione, intanto, diamo conto della Tiberis Macchie, dovrebbe chiamarsi così la nuova società nata, diciamo, dalla fusione tra Tiberis e Castiglione Semacchie. L'ultimo colpo è quello di Francesco Cardinale, centrocampista centrale, che era già con Tulipani alla Castiglione Semacchie. Nuovo preparatore dei portieri, visto che arriva, Federico Mencacci. Ex Pila. Ex Pila, esatto. Ex Torgiano, sì. Sul fronte calciatore, invece, la dirigenza è interessata a Paolo Arcioni, ex Pontevecchio, ma anche qui sono diverse le società che... Sembra che Arcioni sia ancora in attesa di una chiamata all'eccellenza. Esatto. Poi, per quanto riguarda invece il Piccione, ha preso Nicola Baldoni, classe 94, difensore centrale dal Foligno. L'Olimpia Tirus si è assicurata all'esterno, classe 95 Federico Fenici, ex del Narnese, San Benanzo, Massa Martana, che era di proprietà della MC 98, e l'esterno Gianmarco Rosati, classe 97 dal Campitello. Piccione c'è in realtà anche l'arrivo di Francesco Cetra, classe 97, centrocampista ex Casa del Diavolo. Un profilo fortemente voluto da Pino Scattini. Per quanto riguarda il Giove, Brozzetti è il nuovo difensore, l'avevamo già anticipato, ora è ufficiale e farà anche da vice a Carlo Buzzicotti come allenatore. Arrivano due portieri, Enrico Sganappa, classe 99 che proviene dell'Orvietana, e Gianni Guriuk, classe 2000, ex Amerina. Sì, che era l'Amerina quest'anno. Sì. Basta, o vuoi altro? Colpo grosso l'ho fatto anche la tua Julia Spello, con l'epri, in attacco. Ancora non credo sia ufficiale, perlomeno. Io so che... Sì? Ah beh. Si dimenticano ogni tanto... Aspello, eh. Ci hanno un po' memoria corta, ma vuoi di potarsi che... Perché ti vogliono bene perché sei indigeno, eh? Sì, sì. Oggi, polemiche meno tanto velate. Sì, sì, no, ma Spello, su tutti i fenomeni sono diventati. Però, d'altronde, i fenomeni ogni tanto ci stanno, in effetti. Poi bisogna concretizzarli sul campo. Parlando... Annunciano l'allenatore, poi è vero, cioè... Poi si vengono a sapere le cose, che al fine l'Umbria è una regione piccola. E quindi, onestamente, poi si viene... E come dire, fare... Sascondersi dietro a un dito, di fatto, no? Vabbè, ognuno. Nel libro di comportarsi come io credo, io per me, al fine... Sodducendo società in Umbria, ne seguirò 199. Questo esce l'animo del tifoso ferito. No, 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 del tifoso, no, no. Non mi frega niente, proprio. È la correttezza, che è tutta un'altra cosa. Però... Cisto. Andiamo avanti, dai. Andiamo avanti. Sì, sì. Villa del Sole è pronta a farvi trascorrere un'estate di fuego. Tante novità vi aspettano, partendo dalla nuova pista latina e al nuovo format della pista disco sabrosita, dove avremo come resident ogni venerdì lo staff che sta facendo ballare tutta la riviera a tempo di reggaeton, dembow, hip hop, con i loro DJ e la loro animazione mucho caliente, i Pecadora. E per non farvi mancare nulla, la cucina rinnovata e di qualità da quest'estate proporrà anche la pizza. Presso Villa del Sole puoi anche organizzare eventi come compleanni, anniversari, matrimoni e tanto altro ancora. Villa del Sole è a Bovara di Trevi, sulla ridente collina olivata che renderà magici i momenti che ci trascorrerai. Michele, campionato di prima categoria anche a mio avviso che diventa molto difficile quest'anno. Molte società, anche molti ospiti che sono stati qua a Sette Calcio Mercato, parlano di avere ambizioni rinnovate, tutti parlano di alzare l'asticella, poi se tutti la vogliono alzare e arrivare più in alto, qualcuno più in basso ci arriverà di sicuro, però mi viene da pensare al Pier Antonio, non solo, ha visto una valba, insomma tante altre realtà di prima categoria che hanno innestato giocatori di categoria superiore e sembrano avere delle vellità importanti. Tanto, quale girone ti aspetti? Sempre l'aggruppamento B come lo scorso anno, no? Io mi auguro il girone B perché è quello che conosco meglio, quello del lago, diciamo. Sarebbe la quarta volta che lo faccio, quindi meno male è un girone che ho abbastanza conoscenza. Sulla carta chi potrebbero essere i competitor di livello? Diciamo che, allora, intanto la composizione dei gironi è tutta da capire, perché poi mi ricordo quando sono stata alla Tiber pareva, ha fatto sempre il girone di Terni, quell'anno ci hanno messo sul girone di Foligno e non conoscevamo le squadre, quindi poi quella è da vedere. Ma gancio al discorso di prima, come sicuramente si è alzato il livello di eccellenza, credo che tutti vogliono alzare l'asticella perché tante società di prima si ritrovano a poter ingaggiare dei giocatori che l'anno scorso erano in eccellenza. Tante volte ci si illude che si è fatto il colpo di mercato, in realtà è semplicemente perché il livello di eccellenza si è alzato e per certi giocatori non c'è più spazio. La promozione richiede un impegno che è quasi paritario all'eccellenza, la prima categoria è un altro discorso. Quindi inevitabilmente parecchi pensano di aver alzato l'asticella, ma l'hanno fatto, ma l'hanno fatta anche le altre squadre. I competitor, ho visto che sta facendo un bel mercato la Real Virtus, l'anno scorso era sul Girone B, quindi... Che sei un ambiente un po' particolare, eh? Sì, anche lì è saltato qualche allenatore, ma evidentemente è anche una società ambiziosa, no? Quest'anno è arrivato Martinetti, che è dalla Pontevecchio. Poi, insomma, il Magione, quando prendi un giocatore come Porricelli, io adesso poi, l'anno scorso, non credo sia stata andata un po' così, ma... Ritengo, avendolo visto giocare in Serie D, che in prima categoria, se sta abbastanza bene, possa fare la differenza. È importante sempre aver fame, come diceva Riccardo, la bava negli occhi. Quando manca quella, poi... Quella è importante, no? Gli stimoli, no? Gli stimoli, no? Gli stimoli, poi il Moiano, che io, insomma, negli anni che ho fatto il Girone B, ci ho avuto anche la fortuna di vincere una finale a Moiano. Però è sempre partito con presupposti importanti, è una società molto ambiziosa e non è mai riuscito a salire di categoria e mi aspetto che anche quest'anno faccia una squadra in quest'ottica. Quindi diciamo che poi il Girone B, se sarà quello... Il Girone B, del quale dovrebbe far parte di Montepetriolo, se non sbaglio, che avrebbe fatto un colpo decisamente importante, non so se lo sai. Però ha preso Bomber, Tranchitella. Infatti stavo per dire del Montepetriolo che anche quando faceva la seconda... È ambiziosa, è una matricola, ma... È stata sempre una squadra ambiziosa e ha sempre provato a prendere giocatori di categoria superiore. Infatti mi aspettavo che quest'anno facesse un'ottima squadra, perché sono diversi anni che prova a salire e non riesce. Poi adesso c'è anche un presidente nuovo, Moreno Spaccia, per cui insomma l'asticella già è cresciuta l'anno scorso, infatti hanno vinto il campionato. E quest'anno diciamo l'intenzione di far bene anche in prima. Sicuramente se, come so, insomma Tranchitella dovrebbe aver praticamente firmato, se c'è anche questo ingaggio ufficiale, insomma l'asticella s'alza di parecchio. Perché comunque Tranchitella, anche con allenamento a settimana, in prima probabilmente qualche golletto lo fa. Sicuramente c'è anche, se non mi dimentico, la proficulle che... Proficulle che anche oggi, ecco, a proposito della proficulle... Bisogna avere anche lì il girone, ma la proficulle... Ha fatto due colpi in questi ultimi giorni, il portiere Lunardi, classe 85, che era del Fabro, e proprio oggi ha annunciato il centrocampista camerunense Steven Gerrard, che non è quello del Liverpool. Si è riciclato da camerunense. Se era vero è un problema. Se era quello vero... No, Steven Gerrard fanca, fanca, no, no. Ho messo l'ultimo nome. Quindi è un fake di Steven Gerrard. Classe 88, che comunque è cresciuto nell'asco di calcio, per cui insomma ha fatto anche una presenza in Serie B. Io ho detto Steven, ma con due, Steven, adesso la pronuncia è satta, non lo so, però... Magari lo inviteremo e ce la faremo dire. Comunque Gerrard Omen andrà a giocare a proficulle è difficile, quindi sicuramente dirà la sua a proficulle. Promozione il girone B dovrebbe essere di nuovo il raggruppamento del Petrignano, verosimilmente sarà questo. Insomma, sicuramente un gradino soprattutto partono Cliturno e Massa Martana, mi viene da dire. La stessa Visfoligno sta facendo un'ottima squadra. La stessa Visfoligno... E il San Venanzo. Il San Venanzo, MC 98, sua squadra insomma... Campitello parte da una finale play-off, è vero che ha perso Donati, ma alla fine è Fabris. Insomma, due belle... Campitello ha perso Fabris dal giocatore di Cardinari. Però, stesso Fabris te lo ricordi? Sì, me lo ricordo. Se l'ha inventato quest'anno esterno di attacco addirittura il mister ha... L'ho visto. Da voi faceva il play, no? Da voi faceva il play, sì. E quindi, insomma, campionato anche quest'anno... Quest'anno bisogna vedere, negli ultimi anni ha avuto sempre due squadre, barra tre, l'ultimo a fuggire rispetto alle altre. Ma sono due anni che non si fanno le semifinali play-off, o addirittura che non si fanno per niente. Per niente. Quindi, diciamo che quest'anno invece si stanno un po' tutti attrezzando, livellando verso l'alto. Ecco perché il mister sollecita rinforzi. Ah, sicuro. I rinforzi di sollecita, ma è giusto che sia così, perché comunque sia vuole una rosa di giocatori per poter lavorare bene. Poi, quando abbiamo parlato la prima volta, le idee sono state sulla stessa linea donna. Quindi abbiamo preso subito quella strada per poter far sì che, insieme a Gabriele Mela, venisse fuori una squadra competitiva. Ma poi sono giocatori che ci hanno voglia di correre, che devono sentire la maglia del Petregnano sulla pelle. Quindi grande senso di appartenenza. Sì, e devono creare il gruppo per far sì che si raggiunga per prima possibile l'obiettivo. Poi dopo l'appetito viene mangiando. Chiaramente è quello che ci dirà il mercato. E poi parlerà al campo, insomma, alla fine. Riccardo, convieni che probabilmente Cliturno, Massa Martana e lo stesso San Venanzo sono un po' le squadre da battere. E hanno lo stesso Avvis Poligno. Sicuramente sì, perché il Massa Martana è una squadra che penso che l'anno scorso si sia suicidata nel finale. È una squadra che era quadrata per l'eccellenza. La Cliturno è una squadra che ha vinto il campionato, si è rinforzata, ha preso Ginelli davanti. Vallo raggiunto con la categoria San Venanzo uguale. Il Ternano è un campionato che conosco, quindi è difficile. Ecco perché battevo molto con la società. Noi dobbiamo creare un atteggiamento, un'identità ben chiara. Perché il campionato lì è spicoloso. È venuto la Roma Eumenti, che gioca a Lerona sul campo di terra. Campionato difficile. A livello tecnico rispetto al Gironia, sicuramente più basso, ma c'è più egoismo. Sì, concordo. Campionato difficile, ma noi dobbiamo ricreare tanto. Tanto, perché io l'anno scorso l'ho visto, abbiamo affrontato con la società, abbiamo cercato di capire che cosa non andava. La questione caratteriale è venuta fuori sempre. Quindi si è cercato di soprattutto prendere giocatori di temperamento che siano predisposti ad un atteggiamento di personalità. Perché ancora dentro, fuori casa, nel 2019, in queste categorie, l'identità alla squadra deve essere quella. Poi ci sono gli accorgimenti per l'avversario, ovviamente. Però la squadra deve avere una grande autostima. Una grande autostima. Non è questione di presunzione. Però grande autostima, grande voglia di fare. Anche perché, dico sempre, se uno vuole giocare, l'avversario, il dirimpettaio, il giocatore che sta nel suo ruolo, come atteggiamento, deve essere un animale. E quindi vinci l'uno contro uno, i duelli, quello che ti permette di avere una mentalità. Ma questo lo crei però durante la settimana. Abbiamo creato anche uno staff tecnico, la società, che mi ha permesso di portare persone importanti, che comunque anche a livello calcistico sono molto competenti, proprio per lavorare nei tre allenamenti, con una certa metodologia, ma una certa personalità. Che possa tirare fuori a livello caratteriale dai giocatori il massimo di quello che hanno. E qualcuno ha anche qualcosa in più. Confermi dallo scorso anno? Confermi dallo scorso anno Quinti, Scarabattola, questo è Casciola. Quindi alla fine è rimasto. È rimasto, Presidente. Casciola e poi è ritornato Faloglia. Oltre poi ai nostri... Quindi le uscite sono state Ciani, Batini. Ciani, Batini e Anselmi. A proposito di Anselmi, proprio come è arrivata adesso, la comunicazione ufficiale del Bevagna. A punti. Ufficiali Anselmi, Ercolanoni e Angeletti. Tutti a punti. Tutti, eh? A punti, no? Diceva... Non lo so. Se a punti o a virgola, però... Ercolanoni perché hanno dato lavoro. Sì, lavoro, è vero, è vero. È vero. E comunque anche Anselmi e io stesso Leonardo, Angeletti, mi faccio un grande in bocca al lupo, già lo sapevo un po' di Leo. Insomma, secondo me... Sì, ma c'era una risolvere... Cresciuto tanto. Con Gualdo, per cui... Cresciuto tanto. Non era ufficiale per quello. Cresciuto a fuori guata quando stavo a Cannare, è cresciuto, credo, in maniera esponenziale. Questi due anni... Il presidente Rinaldini non rispondeva, a sua rumore. Strano. Non non rispondeva. No, c'era da risolvere il prestito, naturalmente, con Gualdo. Perché l'avevamo acquisito titolo definitivo dalla Sisi, è vero. Però io credo che in attacco il Bevagna in questo momento sia una squadra molto forte. Beh, e Dardari poi è rimasto. E Dardari, Angeletti e Anselmi, insomma, tanta roba nel motore di Mr. Taccucci. Sono tre acquisti che spostano parecchio la sticella del Bevagna, eh, verso l'alto. Eh, probabilmente... Anche quest'anno il girone C... Dichiararla come favorita non è un eufemismo. Beh, diciamo che sicuramente è una delle più autorevoli candidate a fare un campionato di alto vertice. Di altissimo vertice. Complimenti al Bevagna del presidente Fonte Drosciani e del tecnico. Silvestro Taccucci per tre innesti di grandissimo valore. Tra l'altro, Angeletti contattato anche dal Pedrignano. A proposito di... Sì, una telefonata gli è stata fatta, ovviamente. Abbiamo... Io ho dato un'identichetta al direttore, quindi ci siamo mossi su più fronti, ovviamente, perché non è che possiamo lasciare. La società... Siamo partiti per tempo, ci siamo mossi tanto, però anche con tempistiche ponderate. Quindi non è che ci abbiamo fretta, mancano un paio di tasselli, però ci abbiamo ancora... Iniziando il primo agosto, ancora ci abbiamo... Siamo al patrullo. Cinque giorni per completare, o magari anche i primi d'agosto, non abbiamo fretta. Il più credo che sia fatto, con il ritorno anche di Faloglia, l'acquisto di Righetti, giocatori che comunque a me piacciono e vanno a completare in organico e in questo momento è buono. Assolutamente, è vero. Anche l'innesto di Righetti, giocatore che si penti istinto, sia nell'esperienza di Assisi che poi negli ultimi due anni in quel di Viole. Direttore, riguardo il campionato di promozione, Girone B, insomma, chi vedi in cima alla lista? Come avete detto voi, concordo sulla situazione. Anche lì, secondo me, leggendo i vari acquisti, i vari giocatori che sono spostati, si è alzata l'asticella un pochettino. Sono squadre anche che si sono rinforzate, abbastanza, e quindi sarà ancora di più un bellissimo campionato. Assolutamente. A proposito di società di prima categoria, qualche giovanotto è stato ufficializzato, qualche fuori quota un po' già alla Polisportiva C4, dove... Non sono proprio fuori quota, insomma... Sono due fornetti, Brunelli, Ciccioli, insomma, Fornetti, Claudio Pettinelli, preparatore atletico. No, ma non è... Questo è un errore, eh? Non è Federico Angelantoni, ma è Nicola Angeloni, che ha avuto, vicerna, mi sembra, l'esperienza di... Sì, 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 Angeloni, non è Angeloni. Tanta gente sta dicendo Angelantoni, ma non è Federico, non è Federico. Cioè, comunque, insomma, Danieli sono stati bravi a prenderlo per la gola, anche per gli affetti, no? Anche per gli affetti, secondo me la C4, anche con Claudio Pettinelli, preparatore atletico, insomma, non è poco, poi c'era già Coresi, insomma. Io, in questo momento, nel girone C di prima categoria, non è mistero dire che Bevagna, Polisportivo e C4 sono in prima fila. Poi c'è la solita BM8, che funge da grande alzare. Ha aperto e chiuso la campagna acquisti con sette colpi, tutti insieme, non fa come altri, diciamo, che magari dicono uno per volta, però alla fine ognuno fa giustamente come ritiene meglio, aspetta proprio le firme, perché a volte uno... Senza stare a stressare le relazioni tutti i giorni. No, a parte la... No, no, però magari fai fare la foto, poi dopo quello ci ripensa. Qualche volta è giusto aspettare la foto. Comunque è una cosa vera. Ognuno ha la sua politica giusta. Corretto. Io dico sempre, quello che dice De Si prima del primo luglio, fai la foto. Ecco, perché almeno... Infatti, ho preso la letta. Era giusto. Comunque gli acquisti sono l'attaccante Luca Bibiani che era a Muccia con... Non tutta la stagione, no? Un pezzo di stagione. Aperta e chiusa parentesi. Ecco. Poi il portiere Elia Micanti che invece era il San Luca, Leonardo Partenzi, stetsino sinistro dai giovani europei, Gianluca Galli, difensore dalla Superga, Massimo Anciarrini attaccante dal San Luca anche lui, Leonardo Allegrini dal Norcia tramite la Ducato, e il portiere Lorenzo De Mariani dallo Spoleto. questo è tutti i colpi che ha fatto Vittorio Montes. Io le conferme dello scorso anno anche se c'è stata la perdita di Fabio Fedeli, bocca di fuoco in avanti, che è approdato alla Viz Foligno. E anche Daniele Cagnazzo che ha approdato al Cascia. Al Cascia, che oltre al Cagnazzo ha preso anche Dino Paris, classe 93, ex San Luca. Sembrava in procinto di tornare alla Virtus Foligno invece va a Cascia. Virtus Foligno invece ha fatto secondo me un gran colpo perché ha ottenuto la conferma di Lorenzo Stoppini. infatti il mister Protasi mi ha detto che sudava. Non penso per il caldo. È stata sicuramente una grande conferma. Nulla a togliere alla Virtus Foligno e a Protasi però a me personalmente dispiace che sto ragazzo debba rifare la prima categoria. Mi sembra una cosa fuori dal mondo. Però purtroppo lo conosci bene anche te. Lo avevo da Foligno quindi loro lo volevano assolutamente. sanno il suo valore e quindi per la società è un valore aggiunto assolutamente. Sembra che la regola degli under riesca a favorire i giocatori giovani secondo me Stoppini è un esempio l'altra cessione che li uccide. È il contrario. Soprattutto importa. Lorenzo è cosa secondo me incredibile. Ha dimostrato a Foligno in Serie D anche in un momento di enorme difficoltà nell'anno dove c'è stata la radiazione che ha preso grandi responsabilità addirittura con la fascia da capitano le ultime tre gare con tutti i ragazzini e insomma alla fine mi dispiace vederlo in prima sono sincero però complimenti ancora a Giampiero Protasi perché questo è un gran gol che ha fatto un colpissimo nel riuscire a mantenerlo tra l'altro è innestato la Virtus Foligno anche Simone Fuso in difesa che va in sostituzione di Cristian Benzi che ha lasciato la compagina che è sul mercato che è sul mercato bene se vuoi qualcos'altro? eh beh allora in attacco Ponte Felcino fa un bel colpo secondo me perché si è assicurato Gbollo Aristide Criba Gbollo ex Parlesca che l'anno scorso aveva fatto un sacco de golle perlomeno nella prima fase non è solo l'anno scorso comunque era Sanzisto in eccellenza però l'anno scorso ha fatto un sacco de golle Parlesca ha fatto una metà di campionato incredibile e Gbollo ha fatto tanti gol invece Tigrotti Morra negli ultimi giorni hanno fatto sei colpi l'attaccante Ligi dal MDL San Secondo il centrocampista Gaggioli 98 dalla Virtus San Giustino il difensore Enrico Battistoni classe 87 dal Tiferno Luca Mearelli centrocampista classe 90 dal Pier Antonio Cosmos e poi due sotto quota Matteo ed Alessio Alunno entrambi 2000 entrambi dall'FC Castello andiamo un attimo anche in seconda dove c'è l'ufficializzazione della fusione tra Ferro di Cavallo e Madonna Alta questo è proprio il nome Ferro di Cavallo e Madonna Alta Leonardo Lustri il nuovo presidente Mario Castellani il vice Enrico Frao Ferro di Cavallo Madonna Alta io ho detto dal presidente un po' più corto perché se te devo fare un articolo il titolo è il nome della squadra si mettevano anche Piscille prepo e Settevalli era dura invece Enrico Frao che era l'ex presidente del Madonna Alta è il nuovo presidente onorario colpissimo secondo me l'ha fatto anche il San Luca a proposito dei portieri San Luca Luca esatto arriva Luca Ricci Busciantella ex di Torgiano Castellicone Trevi anche il Rivo secondo me ha fatto un bel colpo ha preso l'esterno Lorenzo Ricciolini classe 92 ex Viole tra l'altro il Rivo ha fatto richiesta di ripescaggio in prima categoria non so quanto riuscirà ad essere concreta questa cosa bisognerà vedere gli ammanchi bisognerà vedere gli ammanchi tra l'altro a proposito di iscrizioni proprio oggi ieri per chi ci sta ascoltando perché registriamo giovedì è uscito il comunicato ufficiale numero 1 dove appunto le iscrizioni del campionato di eccellenza e promozione arriveranno al 12 di luglio e al 19 di luglio quelle della prima categoria per cui i cosiddetti ammanchi entro il 19 il primo step il 12 il secondo il 19 lì ne verremo a debita conoscenza chi il 12 si iscriverà o meno per quanto riguarda le nuove iscrizioni invece sembra ripartire il Pila Settevalli e dovrebbe ripartire con Franco Fabri l'ex padrone dello Sporting Pila si esatto è lui che riparte dalla seconda che riparte dalla seconda categoria per problematiche di altro di altro sicuramente altro genere con l'altra quota parte della società sembra voglia ripartire comunque con ambizioni anche se insomma costruire da zero a luglio e avere ambizioni non è facile al di là che si fa la seconda però fa la seconda per cui insomma il tempo si ce n'è magari poi non ci sta necessità di fuori quota soprattutto se si hanno disponibilità economiche si fa sempre tutto alla fine andiamo un attimo su qualche promozione A visto che andiamo parlando su un giro A se il Cinardi il primo colpo è a centrocampo con Davide Poggini classe 94 ex di Sulpizia Castiglione Fiorentino e Anghiari anche il Tavernelli ha fatto un altro bel colpo dopo quello colpo grosso secondo me di Bevilacqua dall'Ellera arriva Leonardo Vazzana classe 92 Vazzana Biscaro Bevilacqua in attacco si sono trattati male quest'anno Mantignana invece ha detto che ha chiuso la campagna acquisti con l'ingaggio dell'attaccante Francesco Marcaccioli dal Sanzisto mentre come sappiamo è cambiato già il primo allenatore in promozione perché Federico Perugini ha lasciato il Mugnano e la panchina la dirigenza ha optato per affidarla ad Alessio Talli extra Siveno nell'ultima stagione alla Pievese prima parte di stagione alla Pievese direttore anche nel Gironia notoriamente sempre molto molto equilibrato è molto tosto è molto tosto squadre ben attrezzate molte squadre ci mette un po' anche il Branca si è mosso molto molto bene ha rinforzato notevolmente la squadra e puntano ad una posizione importante parliamoci chiaro conosco e vogliono fare assolutamente bene però si devono guardare non le spalle ma proprio davanti perché il Branca è super favorito secondo me ha preso giocatori molto importanti infatti è una base solidissima per la categoria con giocatori in categoria superiore è andata a completare l'organico con giocatori che non sto io qui a dire nel senso in dubbio qualità che hanno giocato in categorie superiori assolutamente adesso non so dove potete finire per l'attacca per Gaggiotti che ancora non ha non ha messo nero su bianco però sposterebbe di brutto gli equilibri però io da quello che so è vicinissimo anche perché c'è di mezzo il lavoro mi sa c'è qualcosa del genere esatto e quindi Gaggiotti sicuramente è un giocatore del Branca e il Branca è un gradino superiore a tutti già è favorito senza Gaggiotti figuriamoci secondo me però no ho detto prima il Tavernella perché nei confronti degli altri anni è ripartito la grande già l'anno scorso fino a una parte cambiamo ha fatto benissimo poi nelle ultime partite diciamo hanno perso un po' di punti però per loro andava bene così il campionato e visto la dirigenza personaggi che conosco molto bene ambiziosi quest'anno si sono regalati praticamente colpi importanti e poi bisogna giocarla sul campo e quindi sicuramente darà filo da tolgere fino alla fine per la vittoria del campionato e poi è anche vero Riccardo che me lo insegni con l'esperienza si fanno tante tabelle di marcia o comunque si mettono la griglia di partenza c'è chi in pole position chi in seconda terza fila poi c'è sempre l'outsider che è di turno che esce fuori sicuramente sì sicuramente sì viene fuori la squadra che magari ho anche neopromossa che è già quadrata già un'ossatura il calcio è questo tutti gli anni è uguale quindi sicuramente uscirà qualcosa perché comunque le squadre soprattutto il Gione A stanno grande qualità grande qualità grande qualità il Gione A sicuramente c'è fra l'FC Castello che immagino ancora fatto poco diciamo fatto solo un paio di movimenti diciamo che ancora i soldi sono in cassaforte secondo me insomma abbiamo analizzato fino a questo momento fino a questo momento poi dopo assolutamente se c'è una società che acquista dieci giocatori importanti che cambiano le carte in tavola sulla carta adesso parliamo alla mia opinione fino al 4 di luglio poi bisognerà vedere pienamente d'accordo Presidente quindi anche a Pedrignano si arriva fino al 4 di luglio in questo modo e aspetteremo quindi quelli che saranno i due colpi arriveranno poi siamo a buon punto svelate qualcosa me l'ha proibito il direttore se ne pensa lui Mela si fa lui comunicati pensa tutto si si e quindi ma intanto qualche Mela Imperat difensore e un attaccante vabbè di ruoli vabbè di ruoli intanto vedi le pare poco? sta montendo anche tu non è troppo io una mezza idea ce l'ho però me la tengo Gironia di promozione invece loro voi avete finito il mercato il presidente così maletto no in realtà dobbiamo trovare un altro portiere perché poi uno è andato via uno e due via diciamo perché come sai avevamo preso Farinelli ah si ah è vero è vero poi dopo Farinelli non è venuto più poi abbiamo confermato Persichini anche se Farinelli mi ha telefonato piuttosto alterato anche se insomma con me io non ci ho parlato ci ho parlato se il presidente mi ha detto così io ho scritto così se tu è vero che hai sottretto la mano o no comunque abbiamo Paribocci che insomma per la categoria un ottimo portiere un ottimo portiere però due portieri servono quindi Persichini non è rimasto quindi dobbiamo è tornata la Tiber dove l'avevo portato io quando allenavo la Tiber quindi è giornata bene e il girone A come hanno detto loro sicuramente il Branca io faccio lo stesso discorso per l'eccellenza ha fatto un grande campionato l'anno scorso quindi l'ossatura da cui riparte è importante tra l'altro Caporali è un allenatore che fa giocare bene le squadre quindi sicuramente farà bene e Tavernelli come hanno detto loro ha rinforzato l'anno scorso sicuramente sono partiti con altre ambizioni perché da quello che sapevo volevano ripartire un po' da gente tanto non lo nascondo aveva avuto anche un colloquio con il Taverne mi avevano chiamato per parlare e mi avevano accennato che il progetto era ripartire da ragazzi del posto tanto che io l'anno prima allenavo a Pietrafitte molti rientravano dal prestito quindi ripartire un po' da quei giovani quest'anno secondo me si è completamente spostato il target si è ribaltata la situazione però ci può stare perché poi le società le possibilità non sono tutti gli anni le stesse magari l'anno scorso ha ricreato una base di entusiasmo quest'anno hanno preso signori giocatori e insieme al Branca sono la favorita il Mugnano parlo un po' di quelle che conosco meglio il Mugnano ho visto che è già cambiato allenatore però Talli viene nella stagione un po' sfortunata ma anche lui due anni fa l'ha vinto questo girone quindi sicuramente ripartono dalla conferma di uno degli attaccanti secondo me più forti in assoluto ma del panorama umbro che Fiorucci che purtroppo ci ha avuto una squalifica lunga quando era fuori quota in prima categoria ma è un giocatore che non sfigurerebbe neanche in eccellenza sicuramente e quindi partono da questa base e insomma credo che loro punteranno alla salvezza via diciamo a proposito di nobili decadute Stefano quando attiene la prima categoria anche la nuova Valdo Bastardo riparte e lo fa con il tecnico Patarini Luca Patarini in panchina ex di Unior Sera Ducato che l'hanno ufficializzato quindi ecco perché lo rimarciamo sì sì assolutamente ci dai un'altra raffica prima di salutare i nostri ospiti allora Todi in questi giorni non ha ufficializzato nessun calciatore anche se il direttore sportivo Capoccia sta disperatamente cercando un centrocampista però insomma ha rafforzato la società c'è l'ingresso di Oscar Rossini che è il nuovo direttore generale e di Marco Elci che è il nuovo team manager il Del Nera alla corte di mister Perotti arrivano Lorenzo Verducci classe 2000 dalla Merina e Riccardo Trippanera centrocampista 97 ex Montefranco e Campitello poi possiamo dare qualcosa del Costano che ha ufficializzato l'attaccante Kevin Besciri classe 99 e l'esterno Filippo Rustici 99 tutti e due del Viore erano esatto e tutte e due del Viore invece L'Umberti da M.A. arriva l'attaccante Farrucu classe 97 ex di Selcinardi e Montone anche L'Umberti da M.A. comunque sta facendo una bella squadra Farrucu è un bel ben giocatore Piero Antonio non sono tanto convinto che se la trova così facilmente no però anche se ha trapiantato mezzo Ponte Valleceppi però insomma ha sacchato più di una costola una buona parte buona Emanuele Moni per quanto riguarda la Tiber oltre al portiere Samuele Persighini che diceva il mister classe 96 arriva anche il centrocampista Michele Ciucci classe 97 che era proprietà del Todi ma era al Colonia Val di Pierle invece il nuovo allenatore Andrea Bartoccioni ex tecnico dei Tigrotti Morla a Tuoro arriva anzi resta il difensore Gianni Vento classe 94 invece arriva l'esperto portiere Simone Bicocchi che l'anno scorso era al Magione e anche il gioly difesa e il centrocampo Andrea Checcarelli classe 93 che era a Corciano tre acquisti da parte del Pianello si tratta i difensori Nicolò Silvioni 99 che arriva dalla Castiglione se macchie e Mattia Emidi che invece era a Casa del Diavolo e poi arriva anche il portiere Alessandro Caprini da Resina insomma tanta vuoi qualcos'altro carne al fuoco Santa Sabina sta segnalato vicinissimo al difensore Michele Rinaldi classe 81 ex Pila e Nesta soprattutto invece la Virtus San Giustino ha annunciato l'arrivo del giovane difensore che può giocare sia centrale che anche esterno classe 99 Emanuele Ascione che era Altiferno e poi c'è anche la conferma importante dell'attaccante Matteo Gennari bene bene promosso anche stavolta qualcosetta ci abbiamo ci avrei ancora ma insomma quindi parto la regia che dice che dice la regia ci abbiamo qualcos'altro 1 ora e 5 ancora 5 minuti dobbiamo salutare quindi dai c'è un'altra guarda queste due di fuori regione il portiere Leonardo Vitale classe 98 che in Umbria ha difeso anche i pali del Villa Biagio farà il salto nei professionisti perché è stato ingaggiato dalla Pianese e ha promosso in 0-1 invece il perugino Michele Boldrini non rientrerà in Umbria almeno per ora il classe 85 sembrava vicino anche al Foligno in 0-1 è rimasto nel Lazio perché giocherà con il Flaminia Flaminia Civita Castellana quindi per Michele Boldrini ex Perugia calcio anche Michele nell'anno fallimento tragato Covarelli Agriturno che dovrebbe aver preso laterale destro 2000 Stefano Stella della Ducato di altro innesto nel parco fuori quota sì basta via per oggi basta beh sì sì insomma siamo contenti ti avevamo già promosso adesso siamo sul 7 quindi siamo saliti però possiamo dire qualcosina dell'Orvietano due squadre di seconda poi dopo basta mi taccio allora Cicconia batte due colpi Andrea Venturi classe 97 talentuoso esterno offensivo che arriva in prezzo dal guardia e poi arriva anche Gianluca Peparello classe 90 incursore avanzato ma anche rifinitore che arriva dal Latera prima categoria Laziale mentre l'Orvieto FC non sono ufficiali ma quasi in mediana dovrebbe arrivare Federico Gianni classe 91 ex di Cicconia Dallerona che ritorna al calcio dopo un grave infortunio poi dovrebbe arrivare anche il portiere Michele Massini Rosati ex Montecchio basta bene ringraziamo quindi in primis il nostro Stefano Bagliani che ora mi ha nominato un po' il Pedullà di 7 calci mercato con queste sue problematiche Pedullà è di un altro livello e lo stimo molto perché c'è veramente una marcia in più secondo me sai il fatto anche perché per esempio Sky sono in 20 io sai che sono stato insultato da Pedullà sì Pedullà fa quasi tutto da solo per cui venne insultato da Pedullà quando sono entrato a lavorare in azienda dove lavoro adesso la regla e l'SPA ero appena entrato a lavorare ci fu una segnalazione quando avevo il patentino da giornalista pubblicista e c'è tuttora per carità per lavorare con il suo staff inturace no se ne sono sbariati e quindi mi chiedeva di fare un colloquio a Roma io gli dissi guarda sei entrato a lavorare adesso te ringrazio quindi ma tu lo sai che ho la fila di curriculum chi cavolo sei per rispondermi a sta maniera e mi attacco al telefono in faccia da lì sinceramente non è che io voglio più tanto bene però guarda un po' più Crescitiello al di là delle battute capisco anche Crescitiello comunque però al di là di questo è la verità quindi non mi sta più simpatico dopo questo aneddoto però è pur vero che riconosco le grandissime qualità diciamo che lui e Gianluca Di Marzio nel proprio settore sono hanno un'altra marcia l'altro giorno ho letto un fondo che era di una settimana fa circa e rivendicava che era stato il primo a dire di Sarri alla Juventus e insomma ha fatto un elenco di tutti i giornalisti o pseudo tali che nel frattempo avevano detto non è vero è vero non è vero è vero l'ho detto io l'ho detto io e invece insomma ha fatto proprio una filippica lunga ma il piatto sa il fatto suo e poi c'è anche il suo entourage che gli dà sostentamento sicuramente c'ha qualcuno che gli dà una mano perché è stato bravo a crearsela questa rete però non ha gli uomini che c'ha Sky che sono e neanche i mezzi perché non ha gli stessi ma si regge sulla professionalità di due persone e quindi complimenti assolutamente grazie anche a Michele Gelosia tecnico della Visnova Valba in bocca al lupo per il campionato Aventura grazie a voi per l'invito un saluto anche a Gianni Eugeni neopresidente del Petrignano che abbiamo nominato 2.0 e è un caloroso in bocca al lupo per questa stagione grazie a tutti grazie anche a Riccardo Caporali grazie a voi e grazie anche a Loris Gervasi direttore sportivo dell'Angelana un paio di volte ci rivedremo quest'anno grazie a voi va bene speriamo solo due e poi ci vediamo sul campo ci vediamo grazie grazie anche a Loris un saluto a tutti voi tele e web spettatori arrivederci alla prossima puntata Villa del Sole molto più di un ristorante molto di più di un solarium molto più di un disco club a Villa del Sole vivi l'estate in un'oasi vera e propria trovi relax e divertimento ti abbronzi ti rilassi e poi magari dopo un intrigante aperitivo puoi ballare grazie ai mixaggi dei migliori DJ set il tutto in uno speciale scenario naturale dove troverai benessere emozioni e divertimento Villa del Sole è pronta a farvi trascorrere un'estate di fuego tante novità vi aspettano partendo dalla nuova pista latina e al nuovo format della pista disco sabrosita dove avremo come resident ogni venerdì lo staff che sta facendo ballare tutta la riviera a tempo di reggaeton dembow hip hop con i loro DJ e la loro animazione mucho caliente i peccadora e per non farvi mancare nulla la cucina rinnovata e di qualità da quest'estate proporrà anche la pizza presso Villa del Sole puoi anche organizzare eventi come compleanni anniversari matrimoni e tanto altro ancora Villa del Sole è a Bovara di Trevi sulla ridente collina olivata che renderà magici i momenti che ci trascorrerai grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti